Da metalmeccanici ad operatori sociali senza perdere i diritti, questo l'accordo che è stato finalmente trovato per i lavoratori del CUP dell'ASLA Toscana Sud-Est. Il CUP telefonico è infatti passato dall'Altea Group alla cooperativa sociale sintesi, mantenendo le necessarie garanzie contrattuali e salariali per i lavoratori e lo stesso servizio per gli utenti. Abbiamo ottenuto risultati importanti anche in considerazione della complessità dell'appalto che era su scala regionale, affermano Alessandra Ricciarini e Antonio Fascetto, dirigenti della funzione pubblica e della FIOM CGL. L'accordo prevede dunque il mantenimento di una serie di diritti, in particolare stessa sede e stesso orario di lavoro, retribuzione in essere al momento del passaggio senza nessun tipo di riassorbimento futuro e mantenimento degli scatti di anzianità, garantito anche il riconoscimento dell'articolo 18 della legge 300 e quello della retribuzione del lavoro straordinario senza ricorso all'istituto della flessibilità, la stabilizzazione di lavori interinali, il consolidamento dei contratti part-time attraverso la riparamentazione migliorativa per compensare le differenze tra il contratto nazionale dei metalmeccanici industria e quello della cooperativa sociale ed infine il riconoscimento strutturale del corrispettivo economico dell'elemento perequativo previsto dal contratto metalmeccanici industria e assente nel contratto della cooperazione sociale. Per noi era prioritario garantire la conservazione dei diritti acquisiti dalle lavoratrici e dai lavoratori, concludono i sindacati. Dal nostro punto di vista l'obiettivo è stato conseguito. Infine valutiamo positivamente anche il fatto che in questa complessa vertenza non è stata compromessa la continuità del servizio ai cittadini.